Maria si trova davanti a un mistero più grande della sua vita. La sua risposta è la disponibilità a lasciarsi plasmare dalla volontà di Dio. Cosa accadrebbe se questa proposta venisse fatta a noi oggi? Quale sarebbe la nostra risposta? Ecco un buon spunto su cui meditare durante la festa dell'annunciazione. Chiediamo a Maria la grazia di saper dare a Dio la risposta che egli aspetta da ciascuno di noi. Cosa vuol dire per te compiere la volontà di Dio? Sei abituato a pregare prima di prendere decisioni importanti per la tua vita.